Avvio alle compresenze alle elementari, parte il maestro unico da settembre. Le classi a moduli perderanno risorsi, i pomeriggi verranno affidati a cooperative private pagate in parte dagli stessi genitori che oggi, visti tempi di crisi, devono lavorare entrambi. Basta laboratori, chitarra e teatro rimarranno dei bei sogni. La scuola come la conoscevamo finirà dopo l'estate. Per mantenere la qualità a cui eravamo abituati, presidi e docenti stanno cercando aiuti da amministrazioni comunali, anche se limitate dal cosiddetto patto di stabilità. Arrivano allora proposte diverse, creative e solidali, come quella di alcuni insegnanti di un istituto comprensivo di provincia. Siamo a Carbonera, dove tre maestre che dovrebbero andare in pensione si sono arruolate per i pomeriggi didattici. Oltre ai rimborsi delle spese sostenute dalle insegnanti per ricarsi nelle scuole del territorio, il resto sarà tutto volontariato. Insomma, come si dice, dove non arriva la mano dello Stato, per fortuna c'è il cuore della gente. Colpiti da questa burrasca che vede un taglio di sei maestre nell'istituto, questo presupposto è diventato ancora più vero e ancora direi più necessario. Perciò le abbiamo immediatamente chiamate all'appello. Si tratta di tre insegnanti di grande esperienza che metteranno la loro professionalità a servizio della comunità. C'è una forte sensibilità nei confronti degli alunni stranieri e poiché le compresenze, come ben sapete, verranno tolte ed erano l'unico piccolo tesoretto al quale attingere per formare anche dei piccoli gruppi con alunni stranieri per l'alfabetizzazione, la prima loro disponibilità dichiarata è stata all'indirizzo di questi bambini e bambine che hanno bisogno in alcune situazioni di essere supportati per l'apprendimento linguistico. Le insegnanti poi si sono offerte di seguire anche i bambini con difficoltà di apprendimento o problemi comportamentali, gli alunni più fragili insomma che dal prossimo anno saranno i più penalizzati. A rimanere in piedi grazie alle tre maestre volontarie anche i laboratori artistici come quello teatrale che rischiava di scomparire. Grazie allora care maestre per la generosità e il profondo altruismo. In tutti però rimane la consapevolezza che alle difficoltà strutturali e alla mancanza di personale non sarà sempre possibile rispondere così. Ci sarà una sottrazione istituzionale di forza lavoro quindi non possiamo nemmeno illuderci che i problemi andranno risolti in questo modo. Tuttavia sarebbe un grossissimo spreco di intelligenza e di professionalità a fronte della disponibilità di queste persone a mantenersi attive nel circuito della scuola.